Vai eh, sbustiamo un team di Tidal, l'ennesimo team di Tidal, vediamo cosa ci riserva. A parte le provo. Che c'è? A parte le provo. Caccio le provo. Vediamo. Trovano sbustato. Se c'è qualcosa di bello evidenzalo eh. Per ora niente. Aspetta un attimo. Posso vederlo? Angelo di zero! Ho trovato zero. Via, 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 via. Ho trovato zero. Ho trovato zero. Che sbustatona! Manca la ghost eh! Manca la ghost eh! Manca la ghost la bello! E' una scena che la ultime. No, la scena che c'è già! Un prossimo. Il re degli impi. Eh, il re degli impi perché non ce n'ha nessuno. Troppo giocato a torneo. Io non ce l'ho. Meglio. E' bannato. Ingranaggio, in azione. Ed è finita così. Alla prossima! Non male!